Cosa sono le zone libere? Se prendiamo dalla definizione della lettera, abbastanza semplici sono quelle dove non ci sono fascisti in realtà. Quindi da questo punto di vista si può parlare di zone libere sempre per certi versi, perché il controllo della RSI neanche è stato ipotizzabile che fosse un controllo dell'intero territorio. Grosso modo fino a quando non c'è una puntata dalla città verso le colline o verso le montagne o nel profondo delle vallate, le zone libere sono quasi tutto il territorio teoricamente occupato in realtà, perché nei tedeschi e neanche i fascisti soprattutto a partire da giugno sono in grado di controllarlo questo territorio. Quindi se noi partissimo dal presupposto di identificare le zone liberate avremmo già una certa semplificazione. Se invece parliamo di zone liberate, parliamo del risultato di un'operazione che è stata pensata, progettata e realizzata secondo alcuni scopi che poi vedremo quali possono essere, allora il quando, quando si può parlare di zona libera, dal mio punto di vista è quando si parla di zona liberata, quando è il risultato di una scelta voluta. è anche vero che il ritiro dei presidi della GNR è in buona parte in relazione naturalmente a una progressiva capacità offensiva, a un consolidarsi delle forze partigiane. Le zone libere si determinano lontano dalle città, si determinano laddove tu hai un precario o nullo controllo del territorio da parte delle forze fasciste e un'assenza tedesca. Le zone libere finiscono quando non i fascisti che non contano più nulla, ma quando i tedeschi hanno abbastanza energie e interesse per spazzarle via e spazzarle via vuol dire partire per l'ennesima volta dai centri nevralgici dove sono riunite le forze tedesche e demolire, diciamo così, quelle che, zone franche in qualche modo, zone dove fino a quel momento li hai lasciati stare. La costituzione del CVL sostanzialmente coincide di fatto, dopo la liberazione di Roma, con l'ipotesi che entro due o tre mesi la guerra finisce. La prima fase delle zone liberate è questa qua, è quella dove tutto sommato si tratta di pensare alla trasformazione, qualcuno lo pensa e qualcuno non lo pensa affatto, ma diciamo le forze che sono più interessate a un uso dei territori liberati in funzione di un diverso rapporto con la popolazione e di una diffusione, chiamiamola pure, di massa e della lotta armata, quindi usare le zone libere come zona di reclutamento e sia come sperimentazione politica. Questo secondo me è un fenomeno abbastanza identificabile fra il giugno, il luglio e l'agosto del 44. La lunghissima fase invece che hai, da Alba fino al Monferrato, la Carnia e poi la zona orientale del Friuli o la ripresa di Montefiorino, sono chiaramente figlie, sono tutte esperienze che sono figlie di un'altra fase, in parte hanno messo a frutto l'esperienza precedente, sono di nuovo certamente iscritte, questa volta in un più credibile e immediato scenario di fine della guerra, però non a caso sono le più assenti dalla memoria, perché lì diventa ancora più evidente che sono zone più libere che liberate, tutto sommato c'è un ulteriore indebolimento fascista, non sono il risultato di uno scontro vinto, dopodiché ho conquistato questa zona e adesso ci lancio dentro un progetto. E' una cosa che è iscritta dentro l'andamento generale della guerra, più che dentro un progetto. Se io prendo in mano le prese di posizione, le circolari del Corpo Volontario della Libertà e del CNAI sulla cosa fare delle zone libere, la premessa è sempre, dato che la situazione militare generale sta producendo un'ipotesi di prossima liberazione, sta producendo un arretramento, un indebolimento delle forze fasciste, abbiamo il problema di zone che si aprono a un possibile nostro controllo, se ci entriamo cosa ne facciamo? Ma rileggere questa cosa come un preciso progetto che deve investire l'intero movimento partigiano, che lì troverà la sua maturità, secondo me è un po' un fraintendere la situazione generale.